lo scudetto matematico poteva essere ma non è stato anto la partita del maradona aspetta preceduta dallo spettacolo di napoli da brividio era emozionante mi sono arrivati dei video lele io ancora oggi mi sto emozionando cosa ti ho scritto a te lele mi ricorda il 18 dicembre a buenos aires una roba mai vista ci sono dei miei amici che mi hanno scritto qualcuno che vive qua qualcuno che vive giù mi ha detto tanto il momento che l'inter ha vinto prima della partita dice che addirittura si sono sentito delle scosse di terremoto lì un qualcosa di stratosferico poi andiamo alla partita dall'inizio alla fine ha fatto solo ed esclusivamente la partita il napoli dove il napoli ha voluto vincere non ha speculato ha attaccato sull'una zero ha continuato poi c'è stato questa disattenzione su una punizione battuta laterale su su di a che si è ritrovato osimen ha fatto un grandissimissimo gol e poi ha avuto anche un'altra mezza occasione però ovviamente sarebbe stato domenica perfetto festeggeranno giovedì o lo festeggeranno venerdì lo festeggeranno però la partita è stata a senso unico dove i primi 60 minuti paolo sosa uno che io stimo e noi penso stimiamo tutti ha fatto solo ed esclusivamente una partita a ad affogare le le situazioni del napoli dove difendere solo con una punta avanti e tutto difendere arrivato a un certo punto quando ha preso il gol cosa ha fatto innanzitutto ha fatto già un una decisione importante il secondo inizio secondo tempo ha messo un attaccante al posto di un centrocampista poi ha preso il primo gol e ha giocato 3 4 3 tutta l'attacco rischiando anche con grande sacrificio la sua squadra per quello che doveva fare ha fatto già tantissimo e del non risultato consecutivo della salernitana che non perde bravo assolutamente a paolo sosa però il napoli ha detto bene spalletti godremo ancora di più fra quattro giorni il godimento sarà ancora più grande quello che però si è visto durante la partita perché poi noi dobbiamo analizzare il momento e la partita c'è stata una partita che il napoli poteva doveva vincere assolutamente poi le situazioni si vanno a mettere in un certo modo e festeggeranno giovedì festeggeranno domenica festeggeranno però quello che loro hanno fatto quest'anno e ripeto che hanno fatto quest'anno sarà epico sarà storia perché nessuno mai ripeto nessuno mai in italia soprattutto con una squadra che non sia inter milan e juve a essere sfavorito come neanche arrivare nelle prime quattro a inizio della stagione ha fatto il calcio più bello in italia uno dei migliori in europa e ha disintegrato un campionato con sei cessioni illustri che erano sei titolari cinque barra sei titolari e ripeto una cosa che può darsi a qualcuno può anche non stare il miglior allenatore al mondo oggi escluso ancelotti che ancelotti ormai fa parte delle leggende con i guardiola con i club con gli altri che ha vinto il miglior allenatore italiano oggi è uno solo è uno è luciano spalletti e basta senza se senza ma perché quello che lui ha fatto e sta facendo con una buona squadra elevando tutti a un livello stratosferico è un qualcosa di unico e inimitabile nella storia del calcio italiano perché mi ricordo dal dal 91 che ha vinto la Sampdoria ad oggi sono 32 anni ha vinto solo la Roma e la Lazio con 30 miliardi di sacrifici o altrimenti ha vinto inter juve milan 32 anni una poi è fallita la Lazio ha avuto delle problematiche la Roma si è indebitata tanto perché subito dopo l'anno dopo della Lazio voleva vincere lo scudetto ha avuto delle problematiche altrimenti ha vinto solo milan juve e inter è quello che spalletti ha avuto a disposizione in questa stagione all'inizio nessuno nessuno dei 60 milioni di persone in Italia e gli 8 miliardi al mondo avrebbe detto uno che vinceva lo scudetto al massimo la mettevano come quarta lui ha elevato i giocatori ha lavorato duro è sempre stato umile sul pezzo e sta facendo un qualcosa di unico e inimmaginabile paragonato a quello che ha fatto il Leicester in calcio abbastanza speculativo indovinava tutto invece lui ha fatto uno del fino a due mesi fa il calcio più bello in Europa e ha disintegrato tutti e il mondo è ai piedi di Luciano Spalletti del Napoli un applauso io voglio fare Nick partita e diciamo più prima della della partita cioè conosco una decina di persone che sono partite da Milano con fede calcistica completamente diversa per vivere questo momento che sarà storia quindi comunque questo scudetto un po fa piacere a tutti per la bellezza di come è arrivato del gioco che si è visto però sarà storia perché cavolo il napoletano è speciale sarà quindi tutti cavolo anche persone che non c'entrano niente col Napoli volevano vivere questo momento la partita tanto hai detto bene te l'ha imbrigliata un po paolo sosa nel senso che comunque ha fatto la fase difensiva non dava profondità hai visto Spalletti come si incazzava alcune volte quando olivera andava troppo vicino a caraschelia e quindi li portava anche il raddoppio del suo uomo che lo seguiva un po cercava però era difficile c'è anche un po di tensione che vedi tutto quel momento e ti può non riuscire qualcosina però il Napoli la doveva vincere però ti può capitare di non vincere ha fatto la partita che doveva fare non è riuscita a far gol su azione poi l'ha fatto su calcio d'angolo e poi c'è stato quel gol che cavolo devi fare non era destino io la vedo così che non doveva andare così questa partita perché se la giochi dieci volte nove volte quella partita la vinci vuol dire che ci sarà una storia diversa divina e più bella della vittoria che poteva esserci con la serenitana ma che comunque ci sarà ecco ho fatto un po' No è così anche perché ci sono delle occasioni sprecate le altre sono rimandate per fortuna del Napoli scusami per merito del Napoli è solo rimandata Napoli ha fatto tutto quello che doveva fare poi se non c'è riuscito alla perfezione magari ultimamente qualche volta le è anche capitato di non riuscirci alla perfezione però io dico questo partiamo da una domanda che è una considerazione migliori in campo di ieri Occioa Memo Occioa no? Assolutamente Hai fatto di tutto hai fatto di tutto prima nel momento che ha pareggiato D.A. l'hai fatto di nuovo l'hai portata fino alla fine delle volte una mischia ti premia delle volte non ti premia chiaramente era tutto apparecchiato per quel giorno però rimarrei più sul percorso che è stato clamoroso il percorso è stato clamoroso Che cambia? Se ieri perdeva cosa cambia? No no era solo la preparazione della festa Ha detto bene Spaletti ci godiamo ancora di più tutti i giorni fino alla prossima se vince la prossima e quella dopo ma che cambia se vince anche se perde Udine che cazzo cambia? Ma che è? Ma avete visto cosa hanno combinato o no? Spettacolo Ma ieri è una roba da Ci voleva una telecamera per fare un film a Hollywood Ieri Cosa cambia se giocano bene o giocano male? Ma che cazzo non cambia niente per quello che hanno fatto quest'anno Ha dato spettacolo in tutto il mondo Che cazzo palo dentro palo fuori Io l'unica cosa Lele Io ho 41 anni Devo fare 41 anni Il cinghiale 50 Tu ci vai vicino Io nella mia vita Adesso aspettiamo la festa che fa Io solo il 19 dicembre Il giorno dopo a Buenos Aires ho visto un qualcosa di mai visto nella mia vita Io sono convinto che lì ci andranno vicino Se no non andranno a pareggiare Perché lo meritano Lo meritano Del percorso come hai detto te Lo meritano Perché loro vivono solo ed esclusivamente con quello Con la passione Con mille sacrifici Con gioia Quello che sta regalando la squadra I ragazzi Spalletto E va dato merito ragazzi anche A quello che Bobo continua a dire da tanto tempo Lui lo fa riferimento allo titolo dell'Aurentis È stato sempre massacrato Gli hanno rotto il coglione E va dato anche merito Che dopo tanti sacrifici Tante volte anche Giusto o sbagliato che sia Stanno facendo E lui è tra virgolette il proprietario Di un qualcosa di unico e inimmaginabile in Italia Negli ultimi 70, 80, 100 anni Non lo so Perché io penso che sia così Quello che sta facendo il Napoli quest'anno È unico e inimmaginabile Guarda Spalletti ha parlato In conferenza stampa Pre partita del tempo Del valore del tempo Padre tempo Quando diceva Tutto il tempo Che Dedica Ok? Che dedica Al lavoro Che dedica Alla preparazione Che dedica Alla squadra È la squadra stessa Il tempo che ha dedicato A migliorarsi Per arrivare a offrire Uno spettacolo Giustamente Come diceva Bobo Esportabile In tutto il mondo Perché Come tu vedi Anche i più grandi allenatori Che sono più grandi Non per caso Non rimangono indifferenti Davanti alle belle cose Allora io dico sempre Che tutti hanno diritto al bello Tutti quanti Anche chi non lo merita Ne ha diritto Perché Quello che ha dato il Napoli Arriva dritto alle persone Proprio Ti cambia Ti ferma Ti porta a riflettere Ti fa sorridere Ti porta ad abbracciare Da urlare Quando vedi il calcio del Napoli La reazione È quella di entusiasmo Sobbalzi sul divano Che ne so Riguardi in azione Allora cosa ha fatto Spalletti Parlando del tempo No? Ha proprio detto Che Questo è bello Anto Perché dice Arrivo la sera Metti solo due ore Sono pronto per staccar due ore E poi dico Questa cosa Fammela rivedere Che magari si può aiutare I ragazzi A fargliela fare meglio Allora io dico Queste parole Ti portano davanti Alla mente I film Che tra l'altro Io ieri Ero già pronto A farli vedere Le giocate difensive Dei centrocampisti E degli attaccanti Poi Non essendoci stata la festa Sono lì Che rimangono in bacheca Ma io tutto sabato Te le ho preparate Io sabato Ho preparate le giocate E quindi le ho riviste Camel Ma ragazzi Ma ci sono state Delle giocate Che poi vi mando i video Li metto nella nostra chat Ma che tu dici Impossibili tutte Nello stesso campionato Nello stesso campionato Ragazzi Le giocate Non so Di Lobot Kanghissà Zielinski Faraskela E Osimene Più A completamento Gli altri Tutte nello stesso campionato È veramente Un inno Alla bellezza Un inno Alla bellezza Allora io dico C'è una cosa Che il tempo Non potrà mai scalfire Quest'anno del Napoli Ragazzi Quest'anno del Napoli Ha segnato il passo Ha scandito il tempo E hai voglia Dopo A far finta Che sia stato Un anno così Ce ne si dimenticherà Perché è vero Che il calcio Non ha memoria Però La bellezza Ragazzi Rimane per sempre Veramente È stato un regalo Che abbiamo ricevuto Tutti Tifosi Appassionati Anche in Indifferenti Perché poi Tu puoi essere indifferente Anche se noi siamo Un paese calciofilo Al calcio Perché qualche d'uno Non tutti sono amanti del calcio Ma l'entusiasmo di Napoli Contagia tutti Certo Quella folla Quell'amore Quella passione Quegli abbracci Quei sorrisi Quegli eccessi Arrivano a tutti Quest'anno È l'anno del Napoli Quest'anno è tutto loro E quindi Se durano anche 4-5 giorni O mesi Di più I festeggiamenti Benvengano Tu puoi essere indifferente